... ... ... Amore! Eh, cos'è? Ci sto io in bagno? Eh amore, io non voglio tenere, che ti penso che stai a mandare giacassetta! Mi devo mettere la crema con i tornocchi! Scusa, non ti ammette dopo! Ma perché? Che stai facendo? Non lo vedi? Ah vabbè, non ti preoccupare, venga pure un raffreddo oggi, non senti niente! Vabbè, ma almeno qui, almeno in bagno. Posso avere cinque minuti di privacy? Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare! Non ti preoccupare, non ti preoccupare! Vi faccio subito! Non aspettare un attimo, tengo un raffreddore, ma le regge ci sentono! Levo le mani! Chiudi la porta! Chiudà Alla cosa qua? Quindi è un riso subito! Tornesso subito! it cao Appendate? Grazie.